Lupi è indubbiamente un signor candidato, è esperto, ha una lunga storia politica e l'ho già detto, io ho parlato con rispetto di Albertini e parlo con rispetto di Lupi, tra l'altro sono tutte persone che evidentemente siamo su fronti politici opposti ma ci conosciamo anche da tantissimi anni, quindi se non ci fosse stato rispetto lo si sarebbe già visto, credo che sia un candidato senz'altro degno.